Grazie a tutti La festa Posso dirlo? Io mi fico adesso Condivido questo pensiero Rivolto a te Ma solitamente Senza alcun Lasciamo che i tempi siano maturi Non prendiamoci dopo prese Coglioni Ok Venitemi addosso Che come siamo belli Figa qua cazzo Ma fa culo il basket Emo per forza non funziona Non c'è il tappo Trano l'hai sbagliato 2 1 Via Mi piace il mano ragazzi Mi piace il mano ragazzi Terzo quarto posto Fai cagare come presentatore Buona Buona visione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.